Ciao ragazzi, in questa lezione di scienza delle costruzioni ci occuperemo del continuo di Cauchy e del legame costitutivo come al solito vi consiglio di scaricare preventivamente le dispense in questo modo potete seguire bene quello che dico e magari appuntarvi alcune cose che non sono scritte quindi iniziamo allora, consideriamo un corpo in una posizione del tutto generica quale ad esempio potremmo essere noi seduti in questo momento sulla sedia che cosa succede? che abbiamo sicuramente una parte di superficie libera come questa che sto indicando con il mouse e una parte di superficie vincolata inoltre tutti, poiché siamo seduti sulla sedia, no? inoltre tutti i punti del nostro corpo sono soggetti alla forza di gravità perché siamo dotati di una certa massa ora, la forza di gravità è una forza che agisce a distanza e viene chiamata forza di massa poiché è una forza che viene risentita da tutti i corpi che hanno una certa massa nel caso della scienza delle costruzioni noi non consideriamo in particolar modo la massa di un corpo quanto il suo volume quindi chiameremo queste forze che agiscono a distanza come delle forze di volume inoltre siamo anche soggetti all'aria che ci circonda, no? se andassimo in una camera priva d'aria, una camera vuota, esploderemmo perché? perché l'aria che ci circonda esercita una pressione sul nostro corpo che va in equilibrio con i liquidi che conteniamo quindi siamo soggetti a questa forza dell'aria che è una forza di contatto di contatto poiché le particelle dell'aria rimbalzano sul nostro corpo e allo stesso modo ho più o meno disegnato qui questa situazione quindi abbiamo B che rappresentano le forze di volume e sono le forze che dovrebbero agire su tutto il corpo ora per non disegnare infiniti vettori che cosa ho fatto? ho preso B e l'ho concentrato in un volumetto delta V quindi ho chiamato questa forza B per delta V è un po' come quando nella risoluzione delle travi trasformiamo un carico distribuito in un carico concentrato se il carico distribuito vale P ed è distribuito sulla lunghezza L il carico concentrato vale PL perché è l'aria qui è la stessa cosa il carico B le forze di volume B sono distribuite su tutto il volume quindi le ho concentrate in questo volumetto motivo per cui la forza concentrata è B per delta V ossia B per il volumetto allo stesso modo le forze di contatto sempre per non disegnare infiniti vettori le ho concentrate su quest'area piccolissima di corpo che ho chiamato delta AN in quanto la normale a questa superficie è N ricordatevi che in matematica le aree sono caratterizzate attraverso il vettore normale ossia il vettore perpendicolare all'area di lunghezza unitaria e quindi di nuovo la forza di contatto è FN ma per renderla concentrata l'ho moltiplicata per delta N che è l'area della superficie sulla quale agisce assumiamo che tale corpo soggetto a forze di volume e a forze di contatto sia equilibrato questa è un'ipotesi importantissima su cui ritorneremo più in là al momento l'importante è ricordarsi che tutto questo corpo è in equilibrio sotto l'azione delle forze di volume e di contatto ora che cosa sappiamo? che lo stato di sollecitazione esterno produce delle azioni interne e per studiare tali azioni dividiamo il corpo con un piano pi greco avente normale N quindi prendiamo questo piano che definisco pi greco quindi non l'ho scritto però diciamo che questo piano lo chiamiamo pi greco la normale al piano è N e tagliamo il corpo in questo modo riusciamo a vedere le forze le azioni al suo interno e siccome il corpo è in equilibrio vediamo che le due porzioni di corpo che otteniamo si scambiano forze uguali e opposte a questo punto sulla porzione inferiore del corpo consideriamo un'area delta AN e su quest'area andiamo a concentrare le forze ossia su quest'area andiamo a calcolare la sommatoria delle forze e la sommatoria dei momenti ottenendo quindi due vettori risultanti un vettore che rappresenta la risultante delle forze è un vettore che rappresenta la risultante dei momenti indicato appunto con la doppia punta perché i vettori momenti si indicano inserendo un'altra punta a questo punto Cauchy definisce il vettore della tensione sulla faccia di normale N come il limite per delta N che tende a zero di delta FN fratto delta N ora che cosa vuol dire fenomenologicamente questa definizione matematica? semplicemente che Cauchy definisce la tensione come la forza che agisce sull'area delta N nel momento in cui questa diventa piccolissima in poche parole quell'area che ho disegnato lì rossa diventa sempre più piccola perché l'area tende a zero fino a diventare quindi un punto nel momento in cui la forza agisce sul singolo punto la chiamo tensione quindi la tensione altro non è che la forza agente in un singolo punto interno al corpo questa definizione viene detta postulato di Cauchy allo stesso modo Cauchy dice anche che il limite per delta N che tende a zero di delta MN fratto delta N è uguale a zero e per la definizione che ho dato qui direi che è abbastanza logica come cosa perché se la forza agisce in un singolo punto è chiaro che non può produrre il momento perché la forza passa per questo punto e quindi non può farlo ruotare è una forza di braccio nullo se considerassimo un corpo che so, un po' più grande e applicassimo una forza F qui dove l'ho disegnata è chiaro che questa F tende a far ruotare questo corpo magari rispetto a questo punto ma nel nostro caso non è così poiché la forza passa proprio per il punto e questa, la prima formula come vi dicevo si chiama postulato di Cauchy questa seconda formula invece è una condizione che identifica la classe dei corpi di Cauchy perché ci sono dei corpi per cui questa cosa non vale però noi non li tratteremo cerchiamo a questo punto di capire qualche proprietà del vettore della tensione quindi cosa facciamo dal corpo, quello a forma di fagiolo che ho disegnato prima estraiamo un elementino a forma di parallelepipedo allora su questo elementino sicuramente agiranno sulla superficie laterale le forze F all'interno le forze di volume B qui anche vedete un unico vettore ma in realtà tutti questi dovrebbero essere distribuiti poi questa porzione ha normale n quindi la faccia sotto ha normale meno n perché la normale è opposta inoltre Cauchy per quanto abbiamo appena detto dice che sulla faccia di normale n agisce tn sulla faccia di normale meno n agisce t di meno n poiché il pedice che compare sotto alla t altro non indica che la normale è la faccia su cui sta agendo su cui sta agendo la tensione adesso possiamo dimostrare la dimostrazione non la faremo magari la faremo in separata sede però si può dimostrare che questi due vettori tn e meno tn sono uguali opposti ossia si può dimostrare che t di meno n è proprio uguale a meno tn ossia la tensione sulla faccia di normale meno n è uguale opposta alla tensione sulla faccia di normale n e questo risultato non è per nulla scontato in realtà sembrerebbe a prima vista banale ma fidatevi che non è così tale risultato è noto come l'emma di Cauchy poiché è la diretta conseguenza del postulato fondamentalmente adesso che abbiamo scoperto una delle proprietà del vettore della tensione addentriamoci ancora un po' più a fondo e cerchiamo di vedere cos'altro possiamo dire su questo vettore allora consideriamo un altro elementino estratto dal corpo ma questa volta consideriamolo di forma tetraedrica inoltre lo consideriamo proprio all'interno non vicino al bordo che magari si vedono ancora le forze di contatto e così via quindi consideriamo questo elementino a forma di tetraedro e perché scegliamo il tetraedro? perché è un solido avente una faccia obliqua questa che quindi non è parallela a nessuno dei piani coordinati quindi possiamo dire che questo piano che poi costituisce la faccia del tetraedro è un piano del tutto generico e assumiamo che abbia normale n allora per quanto abbiamo detto sui punti del piano di normale n o meglio sulla faccia di normale n agirà il vettore della tensione Tn allora la prima cosa che posso pensare di fare è quella di scomporre questo Tn in una componente parallela ad n e una componente perpendicolare che quindi giace sulla faccia del tetraedro la componente parallela a n al normale la chiamo sigma nn mentre la componente perpendicolare che giace sulla faccia la chiamo tau n e ora che cosa dico? dico vas beh ma io io o meglio noi siamo molto bravi a lavorare con le terne ortonormali cioè le terne formate da tre assi perpendicolari tra di loro allora cosa faccio? prendo questo tau n e lo scompongo in altri due vettori perpendicolari tra loro così che ottengo una sigma e due tau che in totale formano una terna ortonormale ossia tre vettori perpendicolari tra loro ora la sigma nn viene chiamata tensione assiale mentre le due tau vengono chiamate tensioni tangenziali quindi la sigma è la componente di tensione assiale le due tau sono le componenti di tensione tangenziale ora soffermiamoci un secondo sui pedici come vedete tutte e tre le componenti hanno come primo pedice n sigma n tau n tau n e questo perché il primo pedice indica la normale alla faccia che stiamo considerando noi in particolar modo stiamo considerando questo tetraedro e questo tetraedro ha normale n quindi il primo pedice che compare nelle componenti di tensione è n il secondo pedice indica invece la direzione della componente di tensione ossia la sigma è diretta parallelamente a n quindi si agisce in un punto che si trova sulla faccia di normale n ed è diretta lungo n questa tau nm agisce in un punto della faccia di normale n ed è diretta lungo m e quindi che cosa abbiamo scoperto fondamentalmente che possiamo considerare il vettore della tensione come composto da tre componenti una componente assiale e due componenti tangenziali a questo punto piuttosto che un tetraedro allora andiamo a considerare un cubetto che abbia le facce parallele ai piani coordinati allora per quanto detto su ogni faccia ops vediamo come si toglie questo coso per quanto detto su ogni faccia agiscono tre componenti di o meglio diciamolo come si deve in ogni punto di ogni faccia agiscono tre componenti di tensione perché sulla faccia di normale e1 abbiamo la sigma 1 1 la tau 1 2 e la tau 1 3 perché la sigma è quella perpendicolare alla faccia che sta in un punto della faccia di normale 1 ed è diretta lungo 1 questa componente agisce sulla faccia di normale 1 ed è diretta lungo 2 questa componente agisce sulla faccia di normale 1 ed è diretta lungo 3 andiamo alla faccia azzurra che è quella di normale 2 allora abbiamo la sigma 2 2 che è la componente perpendicolare alla faccia quindi parallela ai 2 poi abbiamo le due tau che sono sempre in punti della faccia di normale 2 quindi il primo pedice 2 poi questo è diretto lungo 3 questo è diretto lungo 1 e similmente avviene per la faccia arancione che è quella superiore perpendicolare ai 3 quindi che cosa possiamo dire possiamo dire che il vettore t1 ossia il vettore della tensione sulla faccia di normale 1 ha la componente sigma 1 1 lungo e1 la componente tau 1 2 lungo e2 e la componente tau 1 3 lungo e3 se prendiamo la faccia di normale 2 abbiamo vediamo che il vettore della tensione t2 ha la componente tau 2 1 lungo e1 poi sigma 2 2 lungo e2 e poi tau 2 3 lungo e3 ovviamente l'ordinamento è questo perché va sempre prima la componente su e1 poi la componente su e2 poi la componente su e3 questo vuol dire che i vettori sono ordinati rispetto al secondo pedice infine sulla faccia arancione che è quella di normale 3 abbiamo la tau 3 1 lungo 1 la tau 3 2 lungo 2 e la sigma 3 3 lungo l'asse e3 ora questo cubetto io chiaramente ho disegnato solo queste 9 componenti di tensione ma ci sarebbero quelle uguali opposte nelle facce in cui non si vedono per il lemma dico sci perché abbiamo detto che se sulla faccia di normale e3 agisce sigma 3 3 sotto quindi la faccia che non si vede sulla faccia sotto agirà la sigma 3 3 uguale opposta quindi diretta verso il basso però teniamoci solo queste in maniera tale che il disegno è più pulito ora questa t1, t2 e t3 costituiscono le componenti speciali della tensione di Cauchy e per quanto è speciale perché ci dicono proprio quanto valgono le vettori della tensione sulle facce che sono parallele ai piani coordinati a questo punto dal lemma di Cauchy deriva che il cubetto è in equilibrio alla traslazione perché se sigma 2 2 tende a tirare verso destra avrò un meno sigma 2 2 che tenderà a tirare verso sinistra perché appunto sulla faccia opposta agisce la tensione uguale opposta e così vale anche per tutte le altre vediamo un po' invece l'equilibrio alla rotazione supponiamo di guardare il cubetto frontalmente ciò che vediamo è questa sezione quindi vediamo la tau 3 2 sopra che va a destra la tau 3 2 poi la tau 2 3 a destra che va in alto e di conseguenza per il lemma di Cauchy vedo le altre due uguali e opposte sui lati che non vedo perché qui come dicevo non le ho disegnate a questo punto cosa succede? che le tau 3 2 tendono a dare una rotazione oraria ossia creano un momento orario mentre le tau 2 3 creano un momento anti-orario e siccome il cubetto deve essere in equilibrio i due momenti si devono eguagliare ma questo succede, dato che è un quadrato succede solo se tau 3 2 è uguale a tau 2 3 allo stesso modo, se vediamo la faccia azzurra frontalmente vediamo la tau 3 1 che viene a sinistra la tau 1 3 che va in alto e di conseguenza quelle opposte ripetendo il ragionamento la tau 3 1 deve essere uguale alla tau 1 3 perché il momento prodotto dalla coppia di forze arancione deve essere uguale al momento prodotto dalla coppia di forze verde e la stessa cosa vale anche per la faccia in alto se la guardiamo frontalmente quindi si ha che la tau 2 1 deve essere uguale alla tau 1 2 a questo punto dalla conoscenza ho scoperto che schiacciando il tasto destro si annullano tutte le transizioni fatte quindi sono dovuto ripartire dall'inizio quindi vi dicevo che adesso cosa succede? che con le componenti speciali di tensione che abbiamo trovato vorremmo essere in grado di calcolare questo tn ok? e in particolar modo possiamo effettivamente andare a trovare una trasformazione lineare che prende in ingresso il vettore n quindi prende come input n e restituisce in output tn quindi, ripeto, è possibile trovare una trasformazione lineare che prende in ingresso il vettore n che è il vettore normale alla superficie sulla quale voglio calcolare la tensione e questa trasformazione lineare restituisce in output tn quando dico trasformazione lineare pensate a una funzione lineare un po' come se fosse una retta tanto per capirci oppure un piano in R3 e tale trasformazione lineare rappresenta in realtà una sorta di rotazione del sistema di riferimento ora comunque, senza entrarci troppo nei dettagli matematici diciamo che ad ogni trasformazione lineare è possibile associare una matrice questo è un concetto algebrico quindi, ripeto, ad ogni trasformazione lineare è possibile associare una matrice la matrice associata alla trasformazione lineare che ci interessa in questo caso viene indicata con t ed è chiamata tensore della tensione e tale matrice è la matrice che ha per componenti o meglio, per colonne proprio i vettori t1, t2 e t3 e quindi è la matrice sigma 1,1, tau 1,2, tau 1,3 tau 2,1, sigma 2,2, tau 2,3 tau 3,1, tau 3,2, sigma 3,3 questi sono proprio le tre componenti speciali della tensione di Cauchy che abbiamo ricavato prima l'ho chiamata tensore perché i tensori sono delle particolari matrici che rispettano determinate leggi di trasformazioni non mi addentro nei dettagli perché tanto non è necessario che li sappiate non vengono trattati in determinati corsi di laurea però sappiate che il tensore è come se fosse una generalizzazione del vettore cioè voi avete lo scalare che è il numero poi avete il vettore poi potreste immaginare di creare un vettore tridimensionale quindi non un vettore nello spazio ma proprio un vettore tridimensionale questo vettore tridimensionale sarebbe ad esempio un tensore se rispetta determinate leggi però, ripeto, non voglio addentrarmi nella teoria dei tensori perché complicheremo inutilmente le cose comunque, adesso che abbiamo il tensore era giusto per spiegarvi il perché c'è questa parola tensore non viene chiamata semplicemente matrice della tensione viene chiamata tensore proprio perché è una matrice che rispetta determinate proprietà comunque, dicevo attraverso il tensore della tensione quindi siamo in grado di conoscere Tn perché il tensore della tensione è la matrice associata a questa trasformazione lineare allora possiamo scrivere semplicemente che Tn è uguale a T per n dove, quindi questo è il prodotto riga per colonna ossia devo prendere la matrice T quindi Tn per calcolarlo devo prendere la matrice T che ha tutte le nove componenti e devo moltiplicarla per il vettore N che avrà le tre componenti N1, N2, N3 e questo prodotto si fa come prodotto riga per colonna che immagino abbiate studiato in altri esami quindi abbiamo detto che Tn è uguale a T per n questo risultato è noto come teorema di Cauchy una volta noto Tn possiamo andare a calcolare anche le altre componenti della tensione ossia sigma nn tau nm e tau nl perché se ci pensate ad esempio sigma nn non è altro che la proiezione di Tn sulla direzione n tau nm è la proiezione di Tn sulla direzione m come se fosse l'ombra vabbè la proiezione appunto mentre tau nl è la proiezione di Tn sulla direzione l ora in matematica le proiezioni si fanno col prodotto scalare quindi se volessi calcolare sigma nn basta che faccio il prodotto scalare tra Tn e il vettore N su cui sto proiettando tau nm sarà quindi Tn per m tau nl sarà Tn per l dove nm ovviamente saranno vettori assegnati perché sapete qual è la normale alla faccia che state studiando detto questo vediamo qualche proprietà di questo del tensore e della tensione in particolar modo dall'equilibrio alla rotazione abbiamo detto che tau 3,2 è uguale a tau 2,3 tau 3,1 è uguale a tau 1,3 e tau 2,1 è uguale a tau 1,2 ma allora il tensore della tensione risulta simmetrico perché tau 1,2 è uguale a tau 2,1 tau 3,1 è uguale a tau 1,3 tau 3,2 è uguale a tau 2,3 quindi abbiamo che i termini opposti alla diagonale principale sono proprio uguali motivo per cui il tensore appunto è simmetrico e ora che succede che in algebra una matrice simmetrica è diagonalizzabile cosa vuol dire che è diagonalizzabile che esiste una trasformazione che è in grado di rendere il tensore o la matrice ripeto confondo i due termini perché nel nostro caso tanto la matrice T è un tensore quindi un tensore è una matrice una matrice non è detta che è un tensore nei nostri casi le due cose coincidono quindi vi dicevo che T è diagonalizzabile questa cosa vuol dire che T può essere reso in forma diagonale la forma diagonale di una matrice è questa che ho scritto qui ossia una matrice con termini diversi da 0 solo sulla diagonale principale e tutti gli altri termini nulli attenzione che sigma 1 sigma 2 e sigma 3 non sono sigma 1 1 sigma 2 2 e sigma 3 3 cioè sono altri termini altri valori numerici ora la trasformazione che permette di diagonalizzare una matrice è semplicemente una rotazione del sistema di riferimento sigma 1 sigma 2 e sigma 3 vengono chiamate tensioni principali e corrispondono agli autovalori della matrice T mentre i nuovi assi del sistema di riferimento ruotato vengono chiamati direzioni principali di tensione e sono gli autovettori associati agli autovalori ossia sono le direzioni lungo cui agiscono sigma 1 sigma 2 e sigma 3 per quanto detto allora per determinare tensioni principali e direzioni principali dovremmo calcolare autovalori e autovettori perché noi abbiamo detto che sigma 1 sigma 2 e sigma 3 sono gli autovalori mentre i nuovi assi del sistema di riferimento ossia le direzioni principali sono individuati dagli autovettori tuttavia se lo stato di tensione è piano e vedremo a breve cosa vuol dire i autovalori e autovettori quindi tensioni principali e direzioni principali di tensione possono essere determinate con il metodo grafico del cerchio di Mohr vi faccio anche un'osservazione fenomenologica prima di andare avanti se guardate la forma della matrice T il tensore della tensione ha sulla diagonale principale le sigma quindi le tensioni assiali sui termini al di fuori della diagonale le tensioni tangenziali ma noi qui le tensioni tangenziali le abbiamo sempre uguali a zero questo che cosa vuol dire che esistono in ogni corpo tre direzioni tali per cui le fibre del corpo allineate con tali direzioni sono solo soggette a tensioni assiali che possono essere quindi di trazione o di compressione perché queste sigma altro non sono quelle che abbiamo già studiato quando abbiamo trattato San Venant in San Venant noi studiamo la sigma 3 perché studiamo la sezione di una trave avente normale l'asse 3 e quindi ecco questa cosa è molto importante perché ci sta dicendo che per ogni corpo esistono tre fibre soggette soltanto a tensioni assiali vediamo quindi come si utilizza il metodo grafico del cerchio di Mohr che è quello che useremo di più negli esercizi il metodo analitico non lo useremo praticamente mai allora per calcolare il cerchio di Mohr per calcolare le tensioni principali e le direzioni principali con il cerchio di Mohr abbiamo detto che ci sia bisogno che c'è bisogno che lo stato di tensione sia piano che cosa vuol dire che lo stato di tensione è piano che le componenti di tensione possono essere racchiuse in un piano vedete se consideriamo il disegno che ho portato qui è sigma 1 1 tau 1 2 tau 2 1 e sigma 2 2 sono tutte disegnabili in questo piano che coincide con il piano E1 E2 a parte l'altezza diciamo il piano è quello perché è parallelo a E1 E2 infatti in questo piano possiamo andare a disegnare quelle 4 componenti di tensione motivo per cui lo stato di tensione viene detto piano ora per uno stato ovviamente ci sono anche sempre le tensioni opposte che non disegno per comodità e per rendere il disegno più pulito se vediamo ad esempio il tensore della tensione relativo a questo stato tensionale le uniche componenti diverse da 0 sono sigma 1 1 tau 1 2 tau 2 1 e sigma 2 2 quindi l'espressione del tensore è questo ma allora siccome ho una riga o una riga o viceversa una colonna di tutti i zeri il determinante di questo tensore della tensione sarà 0 allora questa è la condizione matematica che mi permette di individuare se lo stato di tensione è piano quindi qualora in un esercizio mi venga richiesto di dimostrare che lo stato di tensione è piano basta calcolare il determinante della matrice T e verificare che tale determinante sia uguale a 0 il piano della tensione lo ricavate semplicemente guardando i termini della matrice anche se non avessi avuto il disegno da questa matrice capisco che il piano di tensione è il piano E1 E2 perché gli unici pedici che coempaiono sono il pedice E1 e il pedice E2 quindi ci troviamo sul piano E1 E2 una volta che ho individuato il piano della tensione vado a disegnarmelo quindi nel nostro caso disegno il piano E1 E2 e disegno una delle facce del quadratino in particolar modo questa è la faccia in alto o meglio la faccia in basso perché se guardo il piano E1 E2 in questo modo è come se guardassi il quadratino dal basso e quindi vado a riportarmi le componenti di tensione che vedo ora senza mettermi a perdere tempo nel farlo graficamente io personalmente preferisco utilizzare o meglio farmi questo disegno analiticamente nel senso che disegno il quadratino e poi dico ok prendiamo la faccia di normale 1 che quindi è questa faccia qui la chiamo faccia innollato perché chiaramente qui dietro c'è il cubetto che non si vede però ricordatevi che questo è il cubetto quindi ripeto prendo la faccia di normale 1 quindi la faccia perpendicolare all'asse 1 e dico ce l'ho una componente di tensione lungo 1 sì eccola qui assumiamo sia positiva quindi è questa sigma 1 1 qui c'è scritto sigma 2 2 ma non è vero questa è la sigma 1 1 poi ce l'ho una componente di tensione diretta lungo 2 sì è questa tau assumiamo la positiva quindi va verso l'alto perché 2 è positivo in alto e abbiamo disegnato queste due componenti tutto questo perché vi ricordo che la prima colonna del tensore della tensione è dato da T1 quindi questo è il vettore della tensione sulla faccia di normale 1 la seconda colonna rappresenta invece T2 quindi il vettore della tensione sulla faccia di normale 2 allora prendo la faccia di normale 2 che quindi è questa che coincide con questo lato quindi diciamo così e dico ce l'abbiamo una forza diretta lungo 1 una tensione diretta su lungo 1 sì eccola qua la tau 2 1 com'è positiva ma allora va verso destra perché 1 è positivo a destra ce l'abbiamo qualcosa lungo 2 sì abbiamo questa sigma 2 2 che è positiva quindi va verso l'alto ce l'abbiamo qualcosa lungo 3 no perché l'asse 3 nemmeno lo vedo la terza colonna è tutta nulla quindi non ho più niente da disegnare una volta che ho disegnato queste vado a disegnare anche le loro opposte che esistono per il lemma di Cauchy che sono uguali opposte per il lemma di Cauchy ma non riporto il loro valore perché tanto nella determinazione delle tensioni principali e direzioni principali non servono ci servono solo queste sui lati esterni diciamo così sui lati avente normale gli assi cartesiani positivi detto questo cosa dobbiamo fare? dobbiamo andare a rappresentare questo stato tensionale nel cosiddetto piano di Mor che è il piano avente per dicevo dobbiamo andare a riportare questo nel piano di Mor questo stato di tensione nel piano di Mor dove il piano di Mor è il piano avente sugli assi cartesiani la sigma e la tau quindi sull'asse della scisse troviamo la sigma e sull'asse delle ordinate troviamo la tau e noi vogliamo riportare questo stato tensionale su questo piano allora come facciamo? prendiamo due punti un punto O sul lato orizzontale e un punto V sul lato verticale non è necessario che questi due punti siano a metà cioè io li ho messi a metà ma potevo metterli dove mi pareva sul lato orizzontale perché voi qui vedete queste componenti di tensione ma in realtà io ne ho infinite perché ho una componente di tensione in ogni punto di questo lato ne abbiamo disegnate poche per semplicità perché è più comodo quindi il punto O o lo prendo qui o più a sinistra o più a destra non cambia niente è la stessa cosa V o lo disegniamo più in alto o più in basso anche non cambia nulla allora prendiamo questi punti U e V e vogliamo riportare questi punti U e V su questo piano su questo piano cartesiano allora la prima componente di questi punti è la sigma la seconda è la tau come facciamo a determinare le componenti allora si usa questa convenzione la sigma è positiva se di trazione la tau è positiva se induce rotazioni orarie rispetto all'origine del quadratino adesso se prendo il punto O vedo che la sigma 2,2 va verso l'alto ma quindi è di trazione perché sta tirando il punto se fosse stata diretta al contrario allora sarebbe stata di compressione perché schiacciava il punto allora nel nostro caso comunque va la sigma 2,2 tira il punto quindi è di trazione ed è positiva la tau 2,1 va verso destra quindi rispetto all'origine tende a dare questa rotazione che è una rotazione oraria e quindi positiva motivo per cui qui l'ho scritta positiva se prendiamo invece il punto V la sigma 1,1 perché vi ricordo che questo è 1,1 è di trazione perché tira il corpo tira il punto mentre la tau 1,2 tende a dare rispetto all'origine una rotazione anti-oraria quindi negativa motivo per cui la seconda coordinata è meno tau,1,2 una volta che abbiamo determinato questi due punti possiamo andarli a disegnare nel piano di Mor ora fate finta che questo disegno non ci sia non so perché già sta qua comunque li andiamo a disegnare nel piano di Mor allora il punto O sta qua il punto V sta qua chiaramente io non ho i valori di sigma e tau perché questo è una spiegazione teorica voi nell'esercizio avrete dei numeri nel mio caso ho deciso di piazzarli in questo modo l'unica cosa che sapete è che tau 2,1 è uguale opposta a tau 1,2 per il lemma di Cauchy quindi diciamo le altezze le distanze dei due punti dall'asse delle sigma sono uguali una volta che abbiamo calcolato il punto abbiamo disegnato il punto O e il punto V li uniamo questi due punti con un segmento chiaramente voi in sede di esame o quando fate gli esercizi fate tutto su un unico grafico io qui li sto facendo su più grafici perché in questo modo avete la conseguenzialità delle azioni e vi ricordate quali sono gli step successivi da fare quindi dicevo unisco i punti O e V e questo segmento che ho ottenuto rappresenta il diametro del cerchio di Mohr il centro del cerchio di Mohr è il punto di intersezione col diametro con l'asse delle sigma proprio perché abbiamo detto che le distanze dai due punti sono uguali e quindi i due punti dall'asse delle sigma sono uguali e quindi il centro della circonferenza deve stare sull'asse delle sigma una volta che quindi ho il centro e il diametro posso calcolare posso disegnare il cerchio di Mohr e quindi traccio la circonferenza dico cerchio perché viene chiamato cerchio di Mohr in realtà disegnate la circonferenza ripeto perché avete tracciato il diametro il punto di intersezione col diametro dell'asse sigma e il centro a questo punto conoscete anche il raggio perché sarebbe il diametro diviso 2 e disegnate il cerchio una volta che ho il cerchio di Mohr vado a evidenziare le intersezioni del cerchio con l'asse delle sigma e l'origine e poi questi tre punti che abbiamo evidenziato sono le tensioni principali ossia quelle che stavamo cercando allora le tensioni di fatto sono tre perché una matrice 3x3 presenta tre autovalori però dato che il nostro stato di tensione è piano quando utilizziamo il cerchio di Mohr una delle tre tensioni sarà sempre 0 per quanto riguarda la nomenclatura io personalmente chiamo sempre sigma 1 quella più a destra e poi pian piano vado a crescere verso sinistra quindi se questa la chiamo sigma 1 l'origine del sistema di riferimento la chiamo sigma 2 e quest'altra qui è sigma 3 proprio perché voi evidenziate ve lo rifaccio vedere il passaggio io ho tracciato il cerchio quindi una volta che traccio il cerchio segno questo punto questo punto e questo punto ossia cerchio evidenzio le intersezioni della circonferenza con l'asse delle sigma e l'origine del sistema di riferimento e poi questa la chiamo sigma 1 questa la chiamo sigma 2 e questa la chiamo sigma 3 ossia procedo sempre da destra verso sinistra nel mettere i nomi però non è una regola ognuno fa un po' come gli pare detto questo una volta che abbiamo calcolato le tensioni principali dobbiamo calcolare le direzioni principali come facciamo a calcolare le direzioni principali dobbiamo andare a calcolare il polo delle normali allora il polo delle normali lo dice un po' il nome stesso è il punto in cui si incontrano le normali ai lati quindi il punto O giace sul lato orizzontale del quadratino che abbiamo disegnato prima il quadratino che abbiamo disegnato prima era così il punto O stava qua e il punto V qui l'abbiamo chiamato appositamente orizzontale e verticale quindi la normale ad O è verticale quindi faccio passare per O una retta verticale la normale a V è orizzontale quindi faccio passare per il punto V una retta orizzontale se il cerco è fatto come si deve quindi in proporzione il punto d'incontro di queste due rette si trova sulla circonferenza e lo chiamiamo N appunto polo delle normali adesso dal polo delle normali tracciamo i vettori che passano per sigma 1 e per sigma 3 quindi 1 e 2 quindi mi raccomando i vettori che partono dal polo delle normali devono sempre passare per i punti di intersezione della circonferenza con l'asse delle sigma e quindi chiamo il vettore che passa per sigma 1 lo chiamo V1 il vettore che passa per sigma 3 lo chiamo V3 allora che informazioni mi stanno dando questi due vettori mi stanno dicendo che nel quadratino che abbiamo disegnato prima quindi questo quadratino qui questo R2 questo R1 ok in questo quadratino tutte le fibre orientate come V1 vanno in trazione ossia tendono ad essere tirate motivo per cui vicino a V1 si fa questo disegnino qui questo è un pezzettino un infinitesimo di fibra che tende ad essere tirato mentre tutte le fibre del corpo parallele a V3 quindi quelle orientate in questo modo tendono ad essere compresse perché tendono ad essere compresse perché V3 passa per sigma 3 sigma 3 è negativo perché sta dalla parte negativa dell'asse sigma perché qui questa è l'origine quindi a destra sigma è positivo a sinistra è negativo sigma 3 sta a sinistra quindi è negativo quindi è compressione ok una volta fatto questo allora capisco come vi dicevo che in questo quadratino ci sono che in un corpo ci sono sempre tre direzioni tali per cui le fibre parallele a queste tre direzioni vanno solo in trazione o compressione e la terza direzione qui sarebbe quella perpendicolare perché è scarica non c'è nessuna sigma visto che una delle sigma è zero e allora potrei anche pensare un'altra cosa dico va bene ma allora se ruotassi questo quadratino in un certo modo le uniche tensioni che vedrei sarebbero le sigma perché le tensioni perpendicolari ai lati sarebbero solo questi se ruotassi il quadratino in questo modo e quindi adottando questo punto di vista dico ok cerchiamo come dobbiamo ruotare il quadratino attraverso il cerchio di Moore per capire di come di quanto dobbiamo ruotare il quadratino calcoliamo il polo delle giaciture come si trova il polo delle giaciture come l'intersezione delle rette che passano per O e per V e ci dicono appunto come le direzioni dei lati lungo cui giacciono O e V quindi O giace su un lato che è orizzontale e quindi la direzione è questa V giace su un lato che è verticale e quindi per V passa la retta verticale i due punti di nuovo si intersegano sulla circonferenza in un punto che verrà sempre diametralmente opposto ad N questo punto si chiama K polo delle giaciture ora dal polo delle giaciture traccio due semirette che passano per sigma 1 e sigma 3 ossia che passano per le intersezioni della circonferenza con l'asse delle sigma una e due e disegno un quadratino con i lati paralleli a queste due semirette quindi vedete questo lato del quadratino è parallelo a questa semiretta quest'altro lato del quadratino è parallelo a quest'altra e su questo quadratino vado a riportare le azioni le tensioni che abbiamo determinato prima e questo è simile al disegno che ho cancellato ok per quanto riguarda le espressioni analitiche le formule che ci permettono di calcolare analiticamente il valore delle sigma si ha che le tensioni principali sono date dalla sigma del punto o più la sigma del punto v fratto due più o meno la radice quadrata della sigma di o meno la sigma di v fratto due al quadrato più tau al quadrato la tau non ho specificato se quella di o o quella di v perché tanto in valore sono uguali cambia solo il segno e quindi elevata al quadrato verrà proprio lo stesso numero potete scegliere quella che vi pare per capire ora dal punto di vista geometrico questo termine rappresenta il centro del cerchio del cerchio di moro quest'altro termine rappresenta il raggio e il raggio rappresenta anche la tau max perché il raggio vi dà la massima altezza che raggiunge il cerchio sull'asse delle tau quindi questo punto è quello che registra la tau max la tau più alta questo perché sul cerchio di moro voi trovate tutti i possibili stati di tensione perché in ogni punto del cerchio ci sarà una certa tau e una certa sigma noi con il cerchio con questa procedura che abbiamo fatto abbiamo calcolato quelle tensioni che hanno solo le sigma perché sull'asse delle sigma la tau è zero che sono proprio quelle che ci interessavano per capire invece qual è l'angolo che forma la direzione principale con l'asse delle sigma utilizziamo la seguente formula teta che è quest'angolo che ho disegnato è un mezzo per l'arco tangente di 2 tau fratto sigma o meno sigma v e con questo finisce la trattazione del cerchio di moro magari si è stata fatta un po' velocemente ma sugli appunti quindi sulle dispense allegate alle slide il procedimento è scritto in maniera molto dettagliata in realtà un po' tutta la teoria che è scritta dettagliatamente infatti questa video lezione è più semplicemente per andare ad accompagnare quelle dispense che sono già di per sé in realtà molto dettagliate giusto per specificare magari qualcosa e detto questo quindi come vi dicevo il procedimento del cerchio di moro è finito perché abbiamo ottenuto le nostre tensioni principali e anche l'angolo teta che individua le direzioni principali e possiamo continuare la trattazione del continuo di Cauchy parlando dell'equilibrio perché come ho detto all'inizio quel cubè quel corpo a forma di fagiolo come viene chiamato in letteratura diciamo così si parla di sto corpo a forma di fagiolo era equilibrato e quindi vediamo un po' com'è fatto questo equilibrio perché il corpo è equilibrato non solo sotto l'azione delle forze di volume ma anche sotto l'azione delle forze di contatto e si parlerà allora di equilibrio interno ossia l'equilibrio che riguarda le forze di volume e di equilibrio esterno come l'equilibrio che riguarda le forze di contatto partiamo dall'equilibrio interno quindi qui ho fatto un bellissimo copia e incolla dall'altra slide questo è l'equilibrio interno allora che cosa succede? so che il disegno vi sembra confusionario ma non vi preoccupate perché in realtà il discorso è molto molto semplice consideriamo un cubettino interno al corpo di dimensioni infinitesime quindi questo lato che è parallelo ai due ha dimensioni infinitesima di x2 questo lato che è parallelo a e1 ha dimensioni infinitesima di x1 questo lato che è parallelo e3 ha dimensioni infinitesima di x3 come vi dicevo all'interno del corpo agiscono le forze di volume e adesso che cosa succede? che se sulla faccia di normale meno uno ossia se sulla faccia dietro agisce t di meno uno sulla faccia avanti non solo deve agire t1 che è uguale opposta a questa e quindi la contrasta ma deve anche agire un qualcosa questo contributo che tenderà a bilanciare b solo che non so quanto vale questo contributo so che ci dovrà essere perché sto facendo variare la t1 perché è il contributo che mi da t1 dovuto al fatto che mi sto spostando lungo l'asse x1 della quantità di x1 vedete perché nel passare dalla faccia dietro alla faccia avanti abbiamo percorso questa distanza che è proprio dx1 e allora lungo tutta questa distanza io avrò dovuto contrastare queste forze b ora non so di preciso quanto vale ciò che sto contrastando ma so che sicuramente lo contrasterò facendo variare t1 nel lungo quindi ripeto faccio variare t1 mentre mi sposto lungo l'asse x1 della quantità di x1 questa è una derivata che potete leggere in questo modo cioè il significato è questo questa derivata mi sta dicendo di quanto varia t1 lungo l'asse x1 man mano che mi sposto lungo l'asse x1 della quantità di x1 allo stesso modo se sulla faccia di normale meno e2 agisce t di meno 2 su quest'altra non solo agisce t2 ma agisce anche il dt2 sul dx2 per il dx2 perché? perché stiamo facendo variare la nostra t2 spostandoci lungo l'asse x2 della quantità di x2 e lo stesso discorso vale per quanto riguarda le facce di normale e3 e meno e3 ora se facessimo la sommatoria di tutte queste tensioni e per fare la sommatoria delle tensioni andrebbero prima trasformate in forza ma la dimostrazione non la facciamo anche se non è complicata però dicevo se si vede già d'occhio se io facessi la sommatoria di tutte queste forze è t1 e t1 e t di meno 1 se ne vanno e mi rimane solo il termine differenziale t di meno 3 e t di 3 se ne vanno e mi rimane solo il termine con la derivata appunto e t di 2 e t di meno 2 se ne vanno e mi rimane di nuovo il termine con la derivata più il vettore b allora l'equilibrio mi dirà che il dt1 sul dx1 più il dt2 sul dx2 più il dt3 sul dx3 più b deve essere uguale a 0 ossia le forze di volume sono bilanciate dalle somme dalla somma delle derivate dei vettori della tensione ora se ricordiamo che in matematica 2 l'operatore gradiente è questo che ho disegnato qua perché il gradiente è il vettore che va è un operatore che va a fare le derivate parziali no? voi quando prendete il gradiente e gli mettete una f vicino quello che ottenete è il vettore df su dx1 df su dx2 df su dx3 però il gradiente di per sé è un operatore quindi piuttosto che calcolare il gradiente di una funzione posso anche prendere il gradiente e moltiplicarlo scalarmente per un campo vettoriale e allora mi rendo conto che questa espressione che c'è a sinistra io posso vedermela come il prodotto del vettore gradiente con il vettore t1 t2 t3 prodotto scalare ovviamente perché faccio il primo per il primo e ottengo dt1 su dx1 il secondo per il secondo ottengo dt2 su dx2 il terzo per il terzo e ottengo dt3 su dx3 più b che è proprio l'espressione che sta scritta qua ma in matematica il prodotto scalare del gradiente con un campo vettoriale si chiama divergenza quindi in forma compatta questa formula può essere riscritta come divergenza di t più b uguale a 0 non vi preoccupate che raramente incontrerete questa roba negli esercizi anzi potremmo dire praticamente mai detto questo andiamo avanti e ricordiamo che in effetti noi conosciamo la forma delle t1 t2 e t3 perché sono le componenti speciali della tensione di Cauchy ma allora possiamo anche effettuare esplicitamente il calcolo di t1 su dx1 più di t2 su dx2 più di t3 su dx3 più b che è sempre un vettore uguale a 0 che è sempre un vettore perché? perché prendo tutte le componenti di t1 e le derivo rispetto a x1 a tutte queste componenti sommo le componenti di t2 derivate rispetto a x2 a tutte queste vado a sommare le componenti di t3 derivate rispetto a x3 più il vettore b che avrà componenti b1 b2 e b3 tutto uguale a 0 questo sistema costituisce le cosiddette equazioni indefinite di equilibrio e con questo abbiamo concluso la trattazione dell'equilibrio interno per quanto riguarda invece l'equilibrio esterno la situazione è molto più semplice perché? perché dal punto di vista esterno se sulla faccia di normale n in un certo punto agisce la forza di contatto fn affinché il corpo sia in equilibrio c'è necessità che questa forza equivalga esattamente alla tensione tn quindi l'equilibrio è semplicemente dato l'equilibrio esterno da tn uguale fn che è la relazione che abbiamo scritto qui detto questo possiamo concludere possiamo considerare conclusa questa parte relativa al calcolo della tensione alla trattazione specifica della tensione e voglio dire due parole ma veramente solo due sul legame costitutivo allora il legame costitutivo rappresenta fondamentalmente la prima legge in cui entra in gioco il materiale di cui è composto il corpo che stiamo considerando perché noi abbiamo studiato una prima parte relativa alla cinematica del continuo di Cauchy diciamo così con la matrice della deformazione che è anch'essa un tensore la rotazione rigida eccetera eccetera e adesso abbiamo studiato le tensioni il legame costitutivo che come vi dicevo è relativo al materiale del corpo mette in relazione le tensioni con le deformazioni quindi ci permette di passare dall'una alle altre e queste relazioni sono in realtà abbastanza gravose da scrivere però se noi le scriviamo in termini tensoriali risultano molto più agevoli in termini tensoriali che cosa vuol dire? vuol dire che piuttosto che usare le componenti di tensione e di deformazione uso la matrice della tensione e la matrice della deformazione ossia uso i due tensori quindi posso dire che il tensore E è uguale a 1 più Ni fratto E per il tensore T meno Ni fratto E per la traccia di T per I dove Ni è il modulo di Poisson è un numero che caratterizza il materiale e detto in parole povere che cosa vi dice questo numero di Poisson? vi dice questo immaginate di avere il classico provino a forma di osso di cane con cui si effettuano le prove di trazione io tiro questo provino chiaramente il provino tenderà non solo a diventare più lungo ma tenderà anche a diventare più sottile in mezzeria si verifica la cosiddetta strizione ecco il numero di Poisson rappresenta proprio il rapporto tra quanto si allunga la fibra questa assiale e quanto si accorciano queste altre tanto per capirci e poi E invece è il modulo elastico o di Young la traccia di T rappresenta la somma degli elementi sulla diagonale principale della matrice T la traccia è un concetto tipico dell'algebra e caratterizza una matrice e quindi con questa formula noi siamo in grado di ricavare il tensore E nel momento in cui conosciamo il tensore T come facciamo? semplicemente sostituiamo a T il tensore che conosciamo e facciamo i calcoli I è la matrice identità è la matrice che ha tutti uno sulla diagonale principale 0 altrimenti quindi 1 più Ni fratto E che moltiplica il tensore meno Ni fratto E che moltiplica la traccia per la matrice identità poi su come si fanno questi calcoli lo vedremo con degli esempi applicativi veniamo invece al calcolo opposto ossia supponiamo di conoscere la matrice E e diciamo di voler calcolare il tensore T la formula ci dice che dobbiamo non so perché si sta sta un po' impazzendo la presentazione diciamo che per calcolare T la formula che utilizziamo è 2Mi per E più Lambda per la traccia di E per I dove E è il tensore della deformazione che assumiamo noto e Mi e Lambda sono le costanti di Lamee la traccia di E è di nuovo la somma delle componenti sulla diagonale principale di E I è la matrice identità ora un'osservazione una delle due costanti di Lamee in particolar modo Mi coincide con il modulo di taglio quindi è possibile anche che in qualche esercizio la trovata è indicata con la lettera G perché è la stessa cosa ok e quindi questo è l'unica cosa che mi premeva da dire sul legame costitutivo magari poi faremo un'altra lezione approfondendo un po' il concetto al momento mi serviva dirvi questo perché in questo modo potete fare degli esercizi completi in cui potete passare dal calcolo della matrice T alla matrice E e viceversa allora io spero che sia tutto chiaro la video lezione è stata abbastanza diciamo così veloce ma questo solo perché come vi dicevo gli appunti sono scritti in maniera molto molto dettagliata quindi questo è una sorta di di più che va magari a spiegare meglio alcune cose che stanno lì scritte nella prossima lezione vedremo qualche esercizio qualche esempio al momento spero sia stato tutto chiaro e nel caso basta che mi scrivete va bene ciao ragazzi